Nel terzo trimestre l'economia italiana appare ancora debole, dopo che nel secondo il PIL era risultato piatto. Accanto alla conferma di alcuni segnali di miglioramento, infatti, perdurano a lunga serie di dati negativi, che riflettono anche uno scenario globale non brillante e con rischi a ribasso. È quanto evidenzia il Centro Studi di Confindustria nel rapporto con Giuntura Flash, che parla di economia italiana ferma. Continua la dinamica negativa nell'industria italiana. L'indice PMI, Purchasing Manager's Index, segna la flessione dell'attività nei mesi estivi. Interventi non sufficienti a garantire la profittabilità dello stabilimento di Napoli nel lungo periodo e la competitività di Whirlpool nella regione Europa, Medio Oriente e Africa. Così la multinazionale in una nota definisce il decreto legge per la stella del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. I 16,9 milioni di euro previsti dal testo del decreto legge per il biennio 2019-2020 sono calcolati considerando la messa in solidarietà al 60% della quasi totalità dei 5.500 dipendenti di Whirlpool in Italia. Questa non è un'opzione, in quanto non in linea con il piano industriale 2019-2021. L'azienda ha sempre confermato la volontà di voler garantire la continuità industriale dello stabilimento e i massimi livelli occupazionali al fine di dare un futuro sostenibile ai colleghi di Napoli e ribadisce che l'unica soluzione percorribile è dare una nuova missione produttiva al sito. Il Consiglio di amministrazione di IMSI-SPA ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. I ricavi consolidati al 30 giugno 2019 ammontano 851 milioni di euro, in crescita del 9,9 rispetto ai 774,1 milioni registrati nello stesso periodo del 2018. A cambi costanti, i ricavi consolidati sono incrementati dell'8,7%. Unicredit è stata premiata come miglior fornitore di servizi transnazionali in Europa occidentale nell'ambito dei Transaction Banking Awards annuali di The Banker. Siamo lieti di ricevere questo premio, che dimostra l'eccellenza dei nostri servizi in un mercato altamente competitivo, afferma Luca Corsini, responsabile Global Transaction Banking di Unicredit. Questo risultato testimonia il grande lavoro di tutto il nostro team nell'ascolto delle esigenze dei clienti e nell'impegno al loro soddisfacimento, oltre che nello sviluppo e affinamento della nostra offerta, aggiunge.